Il turismo è uno dei settori, se non il più colpito, dalla pandemia. E per turismo si intendono soprattutto attività alberghiere, tour operator e agenzie di viaggio, che sono rimasti quasi fermi per un anno e adesso iniziano a rivedere qualche cliente che chiede informazioni e di telefoni hanno iniziato nuovamente a squillare. Ha iniziato a squillare negli ultimi 20 giorni, senza grosse prenotazioni, zero. Abbiamo solo qualche richiesta di informazioni, dove possa andare, quali sono i paesi che potranno ospitarmi nelle future vacanze. Queste sono le richieste principali che abbiamo ora. C'è un interesse per il periodo estivo che è iniziato ora da qualche giorno. Molto lentamente, piano piano si sta ripartendo. Ho avuto le prime richieste naturalmente solo Italia, Sardegna e Sicilia. e si spera che piano piano, quando con l'aumento della somministrazione dei vaccini, aumenti le richieste. Oggi gli italiani dove potrebbero andare in vacanza? L'Italia sarà la meta principale delle vacanze degli italiani. La Grecia, ci sono buone possibilità che possa ripartire bene perché stanno facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda rendere le isole covid free. Quindi penso che sia la Grecia che la Spagna saranno le altre due destinazioni primarie in un periodo estivo. Zero lungo raggio. Attualmente ad oggi il turismo è fuori legge. Un italiano non può andare fuori dall'Italia se non per motivi di lavoro, essenziali o di salute. Quindi teoricamente no, anche se, non so, Maldive, Zanzibar, alcune parti della Thailandia, in Europa ci sono aperti dei corridoi che possono permettere di andarci. Una buona opportunità per il momento sarebbe quella di poter prenotare ora con la possibilità di cancellare fino a 20 giorni prima della partenza senza alcuna penale. È l'unico vantaggio che è venuto fuori da questo covid. Nell'agenzia di viaggio uno dei prodotti principi è il viaggio di nozze ovviamente e questo è uno degli ultimi viaggi interrotti purtroppo. La data riporta appunto una data emblematica dell'interruzione del nostro lavoro perché poi noi ovviamente né viaggi di nozze né nemmeno viaggi brevi è un anno che siamo ovviamente fermi.